Altissima affluenza alla 28esima edizione di Incontriamoci a Pordenone, evento organizzato da Ascom Confcommercio, Camera di Commercio, Comune e Provincia di Pordenone. Tra negozi aperti, bazar, bancarelle, chioschi enogastronomici, musica, sport e iniziative culturali, il centro città è stato invaso da tantissime famiglie, dando vita ad una festa di colori e sapori. Come ogni anno non sono mancati i buoni affari alle affollate bancarelle dell'ormai tradizionale bazar 614, la mostra mercato scambio per ragazzi aspiranti commercianti. La soddisfazione per il successo di questo evento nelle parole del sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. È stata una grande edizione di Incontriamoci a Pordenone, non è stato, è vero, il record assoluto di presenze, però è stato sufficiente dare un'occhiata in città per capire che sarebbe stato un anno di grandi numeri. Grandi numeri che sono stati accompagnati da due fatti da sottolineare. Il solito grande mercatino dei bambini che rende allegra di per sé la manifestazione e ci fa piacere vedere questa continuità. E dall'altra parte l'aver aperto il parcheggio di via Vallona per dare la possibilità con una mobilità ed un traffico molto limitato, ci ha dato la possibilità di capire le potenzialità anche di questa struttura e darci la prova provata che l'investimento a suo tempo è stata una cosa saggia. Grande giornata, grande partecipazione, è un po' una ventata di ottimismo che in questo periodo ci fa bene. Una carmes di rilievo per l'intera provincia e non solo, che costituisce da sempre un forte richiamo di immagine e dove l'impegno di enti e associazioni della città è grande e determinante per il successo della manifestazione.